ciao a tutti ciao a tutte allora oggi faremo l'albero di pan di stelle allora io ovviamente utilizzerò anche gli abbracci questi sono tutte tutti i biscotti che mi sono rimasti in più dopo aver fatto delle ricette allora gli ingredienti sono 250 grammi di mascarpone 200 grammi di nutella poi circa 200 milliletri di latte 20 milliletri più o meno anche questo di di panna liquida da montare però tanto non la monteremo cosa importantissima dobbiamo sciogliere la nutella bagnomaria in modo che risulta abbastanza liquida e niente io poi per quanto riguarda la base adopererò questi due questi questi due perché non ho purtroppo quelli rettangolari e niente ora ci vediamo per il montaggio delle della nostra torta a dopo grazie a tutti 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 grazie a tutti